Musica Ben trovati telespettatori di TV6 all'appuntamento con le previsioni meteorologiche per la giornata di mercoledì 1 marzo. Dall'osservazione della mappa del tempo medio per l'Italia possiamo notare che avremo tempo stabile e soleggiato su gran parte del centro nord. Mentre al sud Italia, in particolar modo su Calabria, Basilicata e Puglia, avremo ancora fenomeni di instabilità con possibilità di piogge e rovesci. La ventilazione media proverrà dai quadranti occidentali e i mari risulteranno generalmente mossi, mentre al punto di vista termico le temperature risulteranno ancora in aumento. Nel dettaglio, sull'Abruzzo al mattino le condizioni meteorologiche risulteranno stabili sul versante orientale, mentre nelle zone interne, in particolar modo dell'Aquilano, potremo avere ancora le ultime deboli sporadiche piogge. Nel corso del pomeriggio e della sera le condizioni meteorologiche vedranno un ulteriore miglioramento, con i cieli che risulteranno poco nuvolosi o sereni su gran parte del territorio. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.